Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi è lunedì, anzi no martedì, primo maggio. Quali sono i temi fondamentali? Beh, ovviamente quelli di politica dopo l'intervista di Matteo Renzi rilasciata a Fabio Fazio sono i temi fondamentali. Cosa ha detto? L'abbiamo visto ieri. Ha detto che con il Movimento 5 Stelle non si può pensare di fare un governo, si può cercare di trovare un'alleanza per fare qualche cambiamento delle regole della convivenza. Oggi i giornali parlano ovviamente della risposta di Di Maio di ieri sera che è avvenuta via Facebook. Qualcuno dice che è una risposta arrabbiata, è ritornato un Di Maio in difficoltà, secondo Repubblica, secondo Corriere della Sera. La risposta è che mettiamoci d'accordo per andare subito al voto a giugno, facendo del voto di giugno la seconda tornata elettorale. Vediamo se qua ho il microfono messo meglio. Allora, in questo caso le risposte del centrodestra sono invece risposte negative. Cioè il centrodestra sembrerebbe dire no, non vogliamo andare a votare, piuttosto si pensi a fare un governo di minoranza che possa essere appoggiato da qualcun altro. Quali sono i voti che mancano al centrodestra? Oggi un po' tutti i giornali nei pezzi più o meno lo fanno vedere. 55 voti che mancano alla Camera e più di 20 mancano al Senato. Quindi il centrodestra da solo non va da nessuna parte. Il centrosinistra Renziano, secondo le indiscrizioni, potrebbe dargli una mano al centrodestra per fare appunto le regole delle prossime elezioni. L'idea invece, secondo tutti quanti i giornali di oggi, è che il punto fondamentale del Quirinale è quello di dire no alle elezioni a giugno innanzitutto. E' quello di trovare una soluzione diciamo istituzionale che porti alle elezioni, si dice all'inizio o alla fine di quest'anno, ma che cambi alcune regole del gioco tra cui la legge elettorale. Va bene? Bravo Matteo, io il primo maggio lo festeggio studiando, altro che festa del lavoro, hai perfettamente ragione. Altre considerazioni quindi sulla giornata, vi segnalo che il record, ormai siamo a 58 giorni senza governo, il record purtroppo è un record che parla di un passato che non è bello perché il record di un paese, Italia, senza governo sono 83 giorni ed è dopo fu partorito quel governo, ve lo ricorderete, amato, che fece alcune cose buone, giuste, le privatizzazioni, c'è sostanzialmente la trasformazione in spadi alcune aziende pubbliche che poi portarono alla privatizzazione delle stesse, ma la cosa grave che fece fu quell'otto per mille sui conti correnti che probabilmente tutti quanti voi vi ricorderete. 83 giorni ci mise il governo, amato, per prendere vita nel 1992. Di Maio, secondo Repubblica, sarebbe appannato, la figura di Di Maio che prima tratta con la Lega, poi tratta con il PD, insomma questo ballitto del leader del Movimento 5 Stelle, non sarebbe piaciuto ai suoi elettori, questo sostiene Repubblica e alcuni risultati, questo è il dato di ieri del Friuli, Venezia e Giulia, dimostrerebbero come, e questo lo dice anche Ricolfi sul messaggero, come la politica dei due forni, prima con la destra e poi con la sinistra, purché si governi con Di Maio sempre Presidente del Consiglio, candidato, non sia piaciuto agli elettori, vi ricordo che in Friuli il Movimento 5 Stelle è passato al 7-8% dal 24 che aveva, dal secondo partito al quarto partito. L'altra cosa sintomatica di queste elezioni regionali è che come sempre il Presidente della Regione e candidato prende più voti del partito, questo per dire che quello che conta sono i voti del partito, non i voti del Presidente regionale che ha preso il 12% e peraltro non è stato scelto come c'è nelle cronache di oggi né dalla piattaforma russo né dai locali perché non era un candidato gradito localmente. Però resta il fatto, dice Ricolfi, che ci possiamo mettere tutte le tare che vogliamo sulle elezioni locali, però un segnale di disaffezione con fronte al Movimento 5 Stelle secondo Ricolfi c'è stato. Io non ci spererei perché quando si andrà alle elezioni, se voi siete, diciamo, degli accaniti e anti-grillini, state attenti perché quello che è successo in Friuli, Venezia, Giulia e in Molise, secondo me non sono buone proxy di quello che potrebbe avvenire in Italia a livello politico. Il centrodestra peraltro sembra unito in questa fase perché non è sotto stress, mettiamola così, e l'idea del centrodestra è quella di fare, come avevo detto prima, un governo di minoranza e andarsi a cercare i voti in Parlamento. Bah, vedremo se questo avverrà. Ultima notazione, quella che riguarda il PD, caos PD, il pezzo di Cappellini su Repubblica oggi ha una tesi piuttosto singolare ed è la seguente. Renzi ha tutti i ragioni, il prelievo del conto corrente fu al 3%, mi ricordavo all'8 per mille, posso sbagliare, qualcuno di voi mi dice che fu il 3%, ma secondo me non fu il 3%, il 3% mi sembra molto alto, fu un po' minore. Detto questo, ritorniamo al PD. Il PD è arrabbiatissimo, è spaccato, e questo è un dato, ma Cappellini dice che Renzi è passato dalla ragione al torto per i tempi che ha scelto, perché in realtà in sé un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe stato un irco-servo, una cosa assurda, ma io mi chiedo una cosa, si contesta tanto Renzi perché ha fatto un'intervista da Fazio e ha detto che non vuole fare il governo col Movimento 5 Stelle. Io non riesco a capire qual è il motivo per il quale Renzi, prima gli rompono le balle se non parla, se sta sull'Aventino, se non ha una posizione, poi quando invece la posizione la prende, cioè dice io con quelli che ci hanno attaccato per anni, per mesi, dicendo che eravamo dei ladri e dicendo che eravamo il peggio possibile, adesso dicono che non vogliono, dico che non voglio fare il governo con loro, questo ha detto, non ha detto più nemmeno di questo ed è sbagliato anche in questo caso. Cosa deve fare? Ditemi voi, scrivete una letterina a Renzi per spiegare a Renzi che cosa avrebbe dovuto fare, non so, avrebbe dovuto dire faccio il governo di Movimento 5 Stelle, Cappellini ha ragione, Galli della Loggia ha ragione, i giornalisti hanno ragione. E poi mi chiedo, il problema è aver fatto un'intervista televisiva e se invece le interviste come ha fatto Martina e tanti altri politici del PD le avessero fatto sulla carta stampata sarebbe andata bene, se fosse stato un Whatsapp, se fosse stato un email, se fosse stato una pagina di Facebook sarebbe andata bene. Ragazzi, quello rappresenta, qualcuno nel PD può farvi schifo, può non piacervi, ma santa miseria, ma se vuole dire una cosa e la dice, non la può dire, non la può dire che non vuole fare un governo con il Movimento 5 Stelle, io la trovo una cosa incredibile, quella che il PD non possa dire la sua, una parte del PD su questa cosa. Doveva stare zitto, muto, mi sembra che su Repubblica ci sia il parere di tanti altri dirigenti del PD che per esempio dicono una cosa molto semplice, altri vertici del PD che dicono una cosa molto semplice e dicono, beh, è a valle, qua non prende, anche Martina ha fatto un accordo, ha detto che ci sarebbe un accordo con il Movimento 5 Stelle che il partito non voleva. Altre ultime due cose perché qua vedo che la linea è incasinata, ci sarebbero 5 bombe atomiche pronte in Iran secondo le denunce di Netanyahu e oggi chi non la pensa come Netanyahu è come gli israeliani, titola come il manifesto che sbaglia secondo me, ma il titolo è geniale, cioè Netanyahu presentatore, oppure forse lo fa il fatto, anzi è il fatto che fa il titolo Netanyahu presentatore, insomma se io avessi un paese che vuole la mia distruzione, che ha costruito 5 bombe atomiche o rischia di costruire 5 e altrettante ne hanno sventate con raid gli israeliani negli anni scorsi in Siria, beh forse io non prenderei troppo per i fondelli Netanyahu, come idea, no? Se gli facessero mettere una bomba sotto alla sede del fatto forse non gli piacerebbe che chi denuncia questa bomba venisse definito in maniera irrisoria un presentatore, ma ovviamente quando si parla di israeli e degli ebrei anche il fatto denuncia. Come posso dire, Arturo, Nicola sei un grande bluff, ma speriamo che sia un non un bluff, sia anzi un bluff quello delle bombe iraniane. Ultima cosa, Dazi di Trump, una minchiata dal punto di vista economico, ma la spiega molto bene in un'intervista a Federico Rampini, oggi Stiglitz, che è un economista che ha parlato della globalizzazione e anche dei suoi rischi, è stato anche considerato un ideologo dei no global quando c'era l'occupi Wall Street, eppure oggi ce l'ha con i Dazi di Trump. Molto divertente il pezzo e anche interessante il pezzo fatto da Rampini, l'intervista fatta da Rampini. Ultima cosa, la colf di Fico, beh su questa si litigano Selvagio Lucarelli che dice la colf non è di Fico, ma è della Yvonne, della fidanzata di Fico, quindi denunciato per la colf di Fico, non è di Fico, questo è il titolo del fatto. Il foglio invece la vede un po' diversamente perché dice lo stesso motivo per il quale quando Fico viene pizzicato con una macchina blu, cosa che loro non volevano assolutamente, ma che è normale che il Presidente della Camera abbia, dice no, non è una macchina blu, è una macchina grigia. Insomma, la doppia morale, ne parla anche oggi Vittorio Sgarbi nella sua rubrica sul giornale in cui ricorda come Martelli si dimise al primo avviso di garanzia e lui con Di Maio e Fico, sapete, ha un conto aperto. Insomma, se volete leggere sulla colf di Fico e vedere sulla colf di Fico, potete vedere tutto sul sito ovviamente delle Iene e anche sulla pagina dei giornali. Difende Fico la Lucarelli e attacca Fico, il foglio. Devo dire che la Lucarelli è sempre una posizione eterodossa rispetto a quella del fatto, quindi lei scrive sempre un po' quello che le pare, mi sembra di aver capito fino ad oggi, ma il giornale in sé fatto, non la Lucarelli, se avesse avuto quella condizione in cui si è trovato Fico, l'avesse avuta Renzi, Berlusconi, Gelmini o Boschi, beh insomma gli avrebbero fatto un mazzo così, ma siccome è Fico non se ne parla. Vediamo qua che cosa dice, Friuli, Molise e Domenica, guarderemo la Val d'Aosta, ma non so, vediamo quello che è Struccione, che fa i minacci, non so cosa sia questa frase che mi dice Luisa, sì, due pesi, due misure, è quello che io sto cercando, Lucarelli vuol fare la vice di Travaglio, dice Silvia, questa volta Renzi ha ragione, dicono altre persone, buon primo maggio, ragazzi, primo maggio, l'importante è lavorare, oggi poca retorica sul primo maggio, su tutti quanti i giornali, questa è una cosa di cui mi compiaccio, perché il primo maggio, a parte quella minchiata allucinante che è il concerto dove quattro cantanti di sinistra si vogliono far vedere, insomma, mi sembra ridicola quanto i sindacati che non rappresentano più nessuno se non i pensionati nelle loro categorie. Domani i giornali non ci sono, quindi la zuppa non c'è, un grande saluto a tutti quanti voi, ci vediamo sul sito nicolapooro.it e chissà per qualche novità domani, giorno di trasmissione tra l'altro di Matrix. Ciao!